Oggi ti voglio parlare di un argomento forse un po' insolito, un argomento che non saprei nemmeno bene classificare nei nostri quattro fondamenti che sono la nutrizione, la nutraceutica, l'allenamento fisico e il lavoro interiore. Forse si avvicina al lavoro interiore ma nemmeno poi così tanto ed è il chiedersi come mai gli animali o meglio il rapporto con gli animali ci fa stare così bene. Quando ho comprato il mio ultimo cane l'ho portato a casa che è un labrador cioccolato la veterinaria è venuto a vederlo e ha detto è un antidepressivo su quattro zampe e penso che avesse veramente ragione perché non c'è momento in cui io non guardi questo cane e non mi senta in qualche modo un po' sollevato, un po' rilassato, un po' divertito, un po' meno preoccupato e gli sono infinitamente grato per questo, lui non se ne rende probabilmente conto ma io sono grato a questo animale perché è un portatore di benessere. Sappiamo anche che questa cosa, cioè l'effetto degli animali ormai è noto, sono state fatte ricerche, c'è la pet therapy, ci sono tanti approcci che riconoscono quanto importante sia il rapporto con gli animali, l'uso dei cavalli, però ecco io non mi ero mai soffermato più di tanto su questo, lo davo un po' per scontato e ho avuto altri cani in passato ma forse in momenti della mia vita in cui ero meno attento a queste tematiche, quindi è la prima volta che ho iniziato a chiedermi, osservando questo cane che mi sta intorno, da che cosa dipende questo benessere? Certo dipende dal contatto fisico, dalle coccole che puoi fare a un cane, dalle coccole che il cane fa a te che sono in entrambi i casi dei potenti rilasciatori di ossitocina che è un ormone antistress che ci fa star bene, che rafforza il nostro senso di fiducia, questo senza dubbio, ma c'era un altro aspetto che in qualche modo questa analisi non mi bastava, c'era qualcos'altro che non aveva ancora messo a fuoco e mi è venuto in mente ad un certo punto che gli animali sono dei riduttori di complessità, è un po' come se guardando e osservando un animale la complessità della nostra vita, delle nostre giornate, le preoccupazioni, le brutte notizie, le belle notizie, insomma tutto quello che ruota attorno alla vita di un essere umano che è indubbiamente molto complessa si semplificasse improvvisamente entrando nella dimensione dell'animale che tutto sommato vive e basta, non è che vive preoccupandosi, pensando cosa succederà domani, no vive, vive per il momento, per l'istante, vive per la tua carezza, vive perché gli dai la pappa, vive perché lo porti a fare un giro, vive in maniera più spontanea, più libera forse da condizionamenti, certo qualcuno dirà è un cane, non scrive libri, non è andato sulla luna, non ha fatto le grandi cose che l'uomo ha fatto, senza ombra di dubbio, ma io non faccio questo ragionamento per confrontare e dire sarebbe meglio essere animali senza tutta questa consapevolezza che ci complica la vita, io semplicemente dico fa bene avere animali intorno, fa bene prendersi cura di queste creature perché anche soltanto il curare gli animali è un fattore di rilassamento e temo purtroppo che per tante persone, anche andando avanti con gli anni, la vita cittadina che c'ha in fondo privato del contatto con gli animali almeno che non li acquistiamo, mentre la vita contadina, la vita in campagna ha sempre avuto un grandissimo contatto con la natura e con gli animali, ecco la vita cittadina ci toglie anche questo aspetto, ci toglie la possibilità di rifletterci nell'animale e per qualche istante mentre stiamo lì con loro sintonizzarsi sulla loro semplicità, sul loro atteggiamento che è puramente legato al vivere quel momento, al forse godersi quel momento senza particolari aspettative, beh certo il cane l'aspettativa che a una certa ora gli dai la pappa ce l'ha, questo è vero, però diciamo non c'è mai questa sensazione di preoccupazione, quindi forse non è un caso che in epoca di pandemia così tante persone si sono, come dire, hanno trovato un sollievo, un aiuto nel rapporto con gli animali, ma credo che questo sia molto profondo e vada forse sfruttato di più, quindi benvenga il rapporto con gli animali, benvenga il contatto con la natura, a volte le due cose si associano perché avere un animale in particolare, in questo caso un cane o un cavallo che sta in natura o che tu porti in natura ti porta anche a muoverti di più, a stare a più contatto appunto con l'erba, con i prati, ma è soprattutto questo godersi la loro presenza così spontanea, così ingenua, un po' come quella dei bambini, perché tutto sommato anche noi nella nostra specie per un periodo della nostra vita siamo così spontanei, spensierati, agganciati, ancorati al momento fino a quando non diventiamo grandi e diventare grandi comporta spesso anche delle difficoltà in più, quindi forse ogni tanto stare con gli animali e sentirsi agire un po' da piccoli non è poi così male.